Sofia, performi nel tic-tac. Tic-tac. Great. Good job. Adesso fammi vedere la posizione. Ferma, ferma. Fammi vedere quando fai le curve. Così. Giù con la ginocchia. Così, brava. Ecco, brava, così. Bravissima. E il tic-tac. Ho fatto due, adesso lo fai qui. Bravissima. Non mi beccare il mobile. Bravissima. Peso. Peso.